Permesso? Fammi un po' di spazio! Siamo molto comodi qua vicini vicini, eh? Molto comodi! Buongiorno! Tant'è pomeriggio? Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Allora, siamo qui per fare una cosa che abbiamo promesso da un po' Ovvero... Parla al plurale, io non so neanche come funziona L'idea era di regalare una cartolina a uno dei nostri follower Noi siamo in partenza, partiamo sabato, mattina prestissimo E andiamo in un posto che non vi abbiamo ancora detto Anche se ho lasciato degli indizi, alcuni di voi hanno già indovinato Vabbè, allora è spoiler totale Cosa spoiler? Non ho detto niente! Sì, ma se ne hanno già indovinato? Non ho detto chi? Non ho detto chi? Comunque, andremo in un posto, una città per la precisione E ci staremo cinque giorni È una capitale È uno dei nostri soliti viaggi nelle destinazioni che ci piacciono a noi, insomma E quindi vi vogliamo portare con noi, oltre che con i vlog Anche con questo piccolo pensiero Adesso tu mi devi spiegare perché ridi No, perché ti sei seduta, no? Sì Allora c'è stato il pranzo Mi ha fatto un root, poi mi sono ricordato che era Ma sei mai scemo? Ah, era divertente la cosa Non era divertente? Succede, succede Era disgustoso Va bene Comunque E quindi vi vogliamo regalare una cartolina Hai finito di dimenarti Sono tranquillo Però dovete ovviamente indovinare dove andiamo Che facciamo? Diamo qualche altro indizio? Eh, che indizio? Aspetta, facciamo come Pepper Chocolate Cosa fa Pepper Chocolate? L'indizio è che voi non indovinete mai Ma non è vero, ma è facile la nostra destinazione da indovinare È una capitale È tipica da noi, ovvero ve l'aspettereste benissimo Se non ci siamo ancora andati era solo questione di tempo E ci siamo seduti sopra Tra tutti quelli che indovinano Estrarremo un vincitore che si aggiudicherà la cartolina Avrete poi un paio di giorni di tempo per andarmi da qualche parte Su Facebook, su Instagram Come messaggio privato o sull'email Il vostro indirizzo E noi quando saremo lì vi manderemo la cartolina Ah sì, vabbè, facciamo che dovete essere iscritti al nostro canale Ma cosa? No, non frega niente Ok, disiscrivetevi dal nostro canale Appunto, nel senso che il più bravo vince No, il più fortunato Il più fortunato vince Oggi è lunedì Avete tempo fino a Facciamo venerdì Giorno prima della partenza Per indovinare Venerdì a mezzanotte chiudo le iscrizioni Quindi sabato si estrarà il vincitore Sempre che il wifi funzioni E niente, quindi vi comunicheremo poi il vincitore con uno dei prossimi video O sotto nei commenti E per essere precisi Il notaio della conferma dalle 12 del giorno dopo Grazie per averci seguito in questa avventura Che si chiama Due Italiani in Ok Perché per voi è solo un canale Ma per noi è stato un hobby divertente Che ha iniziato un anno e mezzo fa Siamo a... Ha tutto merito suo comunque Tutto merito mio Io non c'entro niente, io ero contrario Abbiamo raggiunto i 3.000 iscritti Che c'è stata proprio un'impennata negli ultimi tempi Insomma, siamo contentissimi Vi ringraziamo tanto E ci vediamo presto con i vlog di questa gita fuori porta 3, 2, 1 Alla prossima Ciao ciao Non l'hai detto? Devo farlo insieme Alla prossima Ciao ciao Vado di essere registrato se mi lasci Si che deludendo se non registrato Vabbè, lo rifacciamo